Eccoci e bentornati sul mio canale! Riprendiamo con The Witcher 3. Allora, dobbiamo andare a questa veglia funebre per prendere più informazioni possibili. Perché il prossimo obiettivo sarà ovviamente andare da Ermellino per farci indagare su questa foresta che è andata a fuoco e prendere appunto informazioni di se è stata Ciri oppure no, oppure qualche incantesimo legato a lei. Beh, devo dire che sui sui. Allora, state buon umore la ragazza stasera, pure lei sta a fare una cifra dei complimenti. Lady Yennefer, Sir. Salve Arnvald, il mio compagnio è Geralt of Rivia. Sono orgoglioso. Grazie a te, anche. Molti ragazzi. Ci sono arrivati a fare il loro ragazzo. Ci sono arrivati a vedere i claimanti per la Crona. Abbiamo chiesto di parlare con Croc in Crate. Il Jarl ci siungerà brevemente. Ha assaggiato a te un posto di honore alla tavola, appena vicino alla sua donna Ceres. Seguimi, per favore. Con queste musichette che mettono al locante mi fanno un pazzino. Mi sento anche qui. L'ho chiesto di avermi incontrato la notizia di Geralt. Abbiamo incontrato, non mi ricordi. È stato anni fa. Io e Almer eravamo i figli quando hai incontrato l'ora. Ma devi incontrare i miei amici. Mi permette di avermi incontrato. È Halbjorn, figlio di Holger Blackhand. Il mio figlio di Lucca è il primo giro. E il mio figlio di fuori di Otrecht, in Hindar. Mi scusatevi. Mi ricordo di che abbiamo incontrato tutti i anni fa. Ma non mi ricordo il nome del tuo. Ceres in Crate. Crat, il mio padre. E il mio figlio di Almer si chiamano il Sparrowhawk. È una figlia di Gial. È una figlia di Gial. È una figlia di Gial. Ceres è piaci. Ceres è piaciato. Cosa che si tratta di noi, che gli immagini di fare il più grande di Gial. E' la prima di Gial. Siamo tutti i Gial. Cosa fare una sede. Nel mio padre va chiamare il Gial. Ma cosa pensi che parlano di Gial. Cosa parlano di Gial. Cosa parlare di Gial. Perché sei che sei che sei che sei. Ma perché sei che sei che sei che sei che sei che sei che sei. Ma quando Gialmer chiamato tutti a una rata di monta. Ma non si tratta di noi. Sì, quando lo scopo il suo axe in questo posto a la cima per marciare la sua victoria, tu stai spettando le pezzi di carne alla fine. Ho avuto le ragazze per non partecipare, ma io avrei avuto, come avrei avuto ora. Ora che ti ha parlato, ti ha visto che Omar non è qui. Il mio frate è passato il suo passato. Ma per la raccoglione, perché non lo ripeto? Io voglio chiedere a tutti gli obiettivi, in particolare. se io vedi l'ho all'interno, potrei dire che sarebbe una fita, eh? quindi sei in? se il Wittorio è in Geralt? mi piacere di essere chiesto, ma magari un'altra volta no, è vero enough of the natherin, let's drink can't today, for good reason, credo me ma se non oggi, quindi quando? ok, ho detto di non bere, quindi ho detto di non beve e poi ho detto, non sono andato a farsi impresa con loro perché abbiamo detto che dovevamo andare a prendere info quindi è inutile che me andavo un attimo a chiacchierare con questi qua mentre attenevo con questi ragazzetti fammo la missione e non ci pensiamo che c'è deve di Jennifer? che se deve beve? call me a goat fucker one more time and I'll chop off your head, stick it on a pike and piss down your neck hole enough time to settle this here and now oh ha 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 giving me a true freight right now shat me best trousers put that away before you cut yourself you cunt Lord Skelliger's called a truce for feasts I know the hallowed customs but Lugos oughta know that I'll not let him raid my hindus for our bear you don't scare anyone, don't or I'll be boys soon to plow your priestesses drink from your tankard and shit on your table be sure to leave a candle lit for me Emperor would be very pleased to hear you quarrel his imperial majesty is more than welcome to visit let him sail over here we ain't afraid of the black ones raiding coastal villages is one thing total war with the Emperor is another awfully mouthy this one go stir your cauldron and pierce some boils, witch don't talk when you haven't got a fucking clue you know what, Lugos? just realised I don't give a damn about your hallowed rules of hospitality finally some diversion and here I was ready to puke from all the boredom come on freak, show us what you're made of move the benches, there's to be some gobslapping oh tenevi proprio tante proprio tante, panzone tenevi proprio tanti forza vai guarda non si riesce manca a muove dai che glielestiamo a levare le cose dai dai e con gli attacchi veloci te sfondano tutti potenziati ok non fai più il gradasso No, no. That's what I like. And the knocking, it's what men do. Gimme your paw, witcher, let me squeeze. It's a worthy one. Witcher, have a drink with me. Proof there's no hard feelings. It visit me at times, I insist. Yaren's been jabbering about bringing in a witcher for that haunted lighthouse. Do me a favor, metti per l'ail in la taverno da Arrenbjorn. E poi hai fatto un po'短e lavoro per me, così che possiamo riuscire qualcosa di più forte. Siamo alla prossima. Sì, io riuscire un po' con te, Lugos. Vincere come sei, fight, e siamo in per una buona volta. Tabran! Yennefer e io saremmo honore. Siamo alla vostra salute. Forgive us, we should mingle and talk to some of the other guests. What now? Now we pay a visit to Ermion's laboratory. Didn't know we'd been invited. Because we'd not been. Take it, Ermion won't be there. That's right. And what's the purpose of this visit? We're looking for an object. The Mask of Erboros. We'll need it. Come, Geralt. Now you'll tell me why you need this mask. Oh, I shall. In due course. Take it, you'll decide when. Correct. Porco, man, se c'è Becker e Ermion, siamo fregati, secondo me. Comunque, beh, abbiamo dato una bella lezione a quel panzone che rompeva l'anima, voleva litigare pure con quell'altro signore. Stava proprio fuori da capoccia, quello. Allora, vediamo un po' qua sotto sta maschera che cacchio serve. Poi come dici le donne, appena ti dicono una cosa subito no. La facciamo. Sparrows chip, while starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble. And cranes whoop. Grass peacocks screech. Hawks scream. Larks trill. And doves, they coo. That's all of them. A ver, curiosità. Dico, per curiosità, ma se mi cambio, ragazzi, che dite? Cioè, si arrabbierà o non ce lo fa fare? Che vorrei che qua arrivano le guardie e ci se bevono. Vediamo un po'. Andiamo da qua. Corazza. Così ce l'ha levata. Armatura più 15. Più uno, più uno. Solo queste ci abbiamo. Questa qua. Più 15. Perfetto. Rimettemocela. Ok. Non penso che ci romperà le scatole adesso se ci rivede con l'armatura. Questo sarà difficile da aprire. Surprese non si finiscono. Vedete le ravene? Non è difficile. Non è difficile. Non è difficile. Spiari ermianici. Un'indicazione che siamo vicino al suo laboratorio. E' un'indicazione che sento una vera magica magica. Come. C'è una legge in questa finestra. Dobbiamo passare. Va bene. Dove vuoi noi andiamo, carissima. Quindi si passa dalla finestra. Che bel giretto. Mentre stanno tutti alla veglia funebre. Cacchio. Cacchio. Cacchia ha fatto. Ma ha fatto pian corpo. Andiamo va. Perfetto. Andiamo giù. E chissà che cacchio troveremo qua sotto nel laboratorio. Salve. C'è animali impagliati. Ma me li posso esaminare. Questo? Me lo fai esaminare l'orso? Forse no. Forse li intende insieme quelli. Allora. Eccone altri. Questi esorsi. Però non me li fa analizzare. Vediamo che altro c'è di qua. Oh. Questo che cos'è? Un basino di acqua. Va bene. Poi finiamo di analizzare. Allora. Di qua non c'è niente. Ci fa andare tipo di qua. Quindi come se ci fosse qualcosa qua. Questo storso. Uno l'abbiamo pure ammazzato. Ve lo ricordate quanto era grosso quello? Quello era proprio grosso. Qua no. Ma è rimasto uno qua. Mi è rimasto storso qua secondo me. No. L'avevo già visto questo orso? Ah. Me l'avevo già visto. Vediamo un po' che c'è rimasto. Questo me lo dà giallo. Questi me lo dà giallo. L'orso qua scusa. Inizialmente me lo aveva dato rosso. Ma invece me lo dà giallo. Come se l'avessi già analizzato. Qua sta andato tutto a fuoco. Non capisco il perché. Questi li abbiamo analizzati. Questi li abbiamo analizzati. Che ci rimane da vedere? Vediamo un po'. Facciamo il giro qua nulla. Gira, gira, gira. Gira, gira. Gira, gira. Vediamo un po' che c'è rimasto da analizzare. Qua non vedo niente. E sta porta? Sei ok? Mi scopo. La porta è fermata. I animali, sono vivi. Yen, guarda. Non soppi, vi. Ma che cacchio. Via. Forza. Ok, il lube è andato. Senti. Ok, pure l'orso. Perfetto. È normale che l'ha bruciato. È strano. Sceglie di... ...musserri in qui. Oh. Ah, yeah. No, l'altro orso. Porco cane, guai. Dovremmo ammazzare tutti. Forza. Sbrigate con l'attacco veloce. Dai. Benissimo. Benissimo, Gira. Ancora altri orsi. Ma con gli nostri attacchi rapidi non ce la farà mai. Perfetto. Manca un altro di orso, quello là. Eccolo. Arriva. 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 Aia. Aia. Forza, forza, forza. Voilà. Oh. Finiti? Che cacchio è? Oh. Che cacchio fai? No. What's happening? You were hallucinating. You ran at Ermion's animals. Sword flailing. I had to calm you. Hmm. Must have looked strange. Your years of vigorous training at Kaer Moron finally paid off. Bested nearly all the stuffed beasts in here. Please. Fine. We've passed the trial of taxidermy. The door stands open. Che figura barbina. Let's go inside, Geralt. Ci ha attaccato gli animali impagliati, rega. Che figura. Che figura. Sì, brava. Chiudi tutto. Ok. Sì, aspetta che c'ho paura che ogni volta che raccolgo qualcosa mi se... se blocca il pupazzo, quindi... Pinecone. Wondrous world of insectoids. Large female. Ritual plants. A sword in a stone. Things begging me to pull it out. It's not in the stone, don't you see? It's held there by a vice. Che figuraccia. Seconda figuraccia di fila, rega. Stiamo a fare una dopo un'altra, eh? Allora, sto a vedere cosa c'è qua. Qua c'è un libro. No, la caccia selvaggia non ce ne può fregare di meno. Qua chiamano e riattacchiamo perché non è possibile non si può mai giocare in Santa Pace ogni volta che gioco qualcuno chiama. Ok. Qua cosa c'è? Corrispondenza di Ermellino. Poi, qua c'è una mappa. Eccola, la maschera l'ho trovata, rega. Allora, facciamo una cosa. Ci fermiamo qui così nel prossimo video prendiamo la maschera e vediamo un po' che cosa accade qui sotto nel laboratorio di Ermellino. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e condividete il mio video e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale. Allora, Grazie a tutti.